Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di letteratura. Oggi approfondiremo il pensiero e la poetica di Alessandro Manzoni. Vi siete già iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Durante il suo giorno a Parigi Manzoni si interessa al pensiero illuminista e si convince che l'arte debba dare il proprio contributo al progresso dell'umanità. Questa idea rimarrà centrale nella poetica manzoniana e dopo il riavvicinamento al cristianesimo nel 1810 Manzoni non rinuncia affatto a questa convinzione bensì la arricchisce. Gli ideali di progresso sociale delle sue opere trovano infatti un punto di riferimento morale e politico nella religione cattolica. L'attenzione per gli oppressi per le masse popolari che Manzoni assorbe dal romanticismo si accentua dopo la sua conversione. I protagonisti delle sue opere sono persone umili o figure che da potenti a un certo punto vengono a trovarsi al livello più basso dell'umanità. Umili e oppressi non devono però disperarsi perché Manzoni è convinto che la storia sia guidata dalla provvidenza divina. Pur scrivendo generi letterari diversi, poesia, romanzo, teatro, le opere di Manzoni hanno alcune caratteristiche comuni. La ricerca della verità, che egli riteneva indispensabile perché l'arte potesse avere un fine educativo. La concezione della storia come espressione della provvidenza divina, cioè della volontà imperscrutabile di Dio, che gli uomini devono accettare fiduciosamente. e impegnandosi attivamente con le loro opere per favorire il bene e la giustizia. L'idea centrale della poetica manzoniana è che la letteratura deve avere come scopo l'utile, come argomento il vero e come mezzo l'interessante, come lui stesso scrive nella prima redazione della lettera sul romanticismo del 1823. L'utile per scopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo. Che cosa significa? L'idea che la letteratura dovesse essere utile alla società era una delle poche che accomunava l'illuminismo con il romanticismo, due poetiche entrambe ben presenti nell'animo di Manzoni. E, in quanto cristiano, Manzoni si aspetta dalla letteratura un'utilità essenzialmente morale. La poesia e la letteratura in generale devono pertanto mirare ed educare culturalmente e spiritualmente il singolo uomo e il popolo, cioè devono contribuire al progresso morale della società. È l'utile. Devono prendere spunto, nel loro contenuto, dal vero. Per Manzoni la storia è il fondamento più sicuro su cui muoversi. Ogni poeta deve essere anche storico e deve documentarsi scrupolosamente sul periodo che sta per descrivere. Inoltre, debbono essere attuali e moderne, scegliendo temi che suscitano l'interesse di ampie fasce di lettori. Manzoni precisa che la storia e la poesia si integrano perfettamente. La prima fornisce il vero storico, ci fa conoscere i grandi eventi realmente accaduti e i grandi personaggi realmente esistiti. La poesia produce il vero poetico, che descrive i sentimenti provati dai protagonisti della storia. Manzoni dunque distingue il vero storico, che è il materiale storico, oggettivamente vero, storicamente indagabile, dal vero poetico, che riguarda invece gli aspetti psicologici e la creazione dei personaggi. L'opera letteraria deve allora combinare insieme il vero e il verosimile, il reale e l'invenzione poetica, in modo che ne derivi l'utile, cioè la trasmissione di un messaggio morale e un insegnamento. Il vero poetico, però, non deve nascere da una libera interpretazione o creazione, ma deve essere verosimile, cioè fondarsi sulla conoscenza della storia per evitare situazioni anacronistiche o stravaganti. Manzoni dunque, nella sua opera I promessi sposi, romanzo storico, fa nascere sullo sfondo di una documentata ricostruzione storica proprio l'invenzione poetica. L'attenzione agli umili, ai perdenti, è un aspetto del suo interesse per la storia. Manzoni mette al centro del suo romanzo persone semplici, ignorate dalla storiografia ufficiale, persone che apparentemente non lasciano alcuna traccia di sé. Ora tocca a te. Leggiamo insieme queste citazioni manzoniane. La prima è tratta dalla 5 maggio, morte di Napoleone. E parlando proprio di Napoleone, Manzoni scrive «Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza». Le altre due citazioni sono tratte dai promessi sposi. Dio, dice Lucia, non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. E ancora, la vita non è già destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno renderà conto. Dopo aver spiegato queste tre citazioni, prova ad individuare quali aspetti del pensiero della poetica manzoniana ravvisi in ognuna di essi. Appuntati le tue osservazioni sul quaderno e tornato in classe, condividile con i tuoi compagni. Arrivederci ragazzi, non dimenticate il like, a presto! Vi aspetto alla prossima lezione!